Tu che cosa hai da dire a questa situazione che si è venuta a creare in Italia? Col Matrix, con questo secondo, la Matrix europea. Sì, l'edizione 2019 con tutti gli aggiornamenti. Abbiamo parlato di censura, tu sai che i due video sui temi del libro hanno raggiunto 11 milioni di visualizzazioni. Eppure tranne Vito Monaco non abbiamo avuto appoggio da altri media. Ricordo invece, è la prima volta che incontro Paragore, però nel 2014 col compianto Salvo Mandara noi portammo un video dal Bilderberg di Copenhagen con le immagini anche di Monica Maggioni che entrava nella riunione e poi diventerà presidente della RAI e Paragore fu l'unico a mandarne un pezzo in onda. Perché io prima avevo mandato, i miei giornalisti erano in Austria, credo, nell'edizione precedente, se non ricordo male. In quell'edizione c'era Lilly Gruber, come in tutte le edizioni. Oggi è membro del Commit. Esatto, ma la cosa incredibile è che queste riunioni si svolgono con parti militari che presidiano questo luogo. E quando un giornalista si fa presidiare da filo spinato, da cani da caccia, da guardia, dall'esercito viene meno l'essenza del giornalismo. Il giornalismo non può esistere senza il racconto. Quindi io non capisco quei giornalisti come possano far parte di club esclusivi che sono vincolati, un altro è Stefano Feltri, che sono vincolati dal segreto. Allora, tu se vai in un posto devi raccontare, altrimenti non ci andare e non fare il giornalista. Ma addirittura c'è un'immagine del video dove io e Salvo Mandara, vediamo questo cecchino sul tetto del Marriott Hotel, quindi ci fingiamo turisti, telefoniamo alla polizia danese, io dico guardi, noi stavamo fotografando l'hotel ma c'è un uomo incappucciato sul tetto, sta succedendo qualcosa, potete intervenire. E il poliziotto mi dice andate immediatamente via da lì, non vi posso dire niente, andate subito via da lì. Ora, se fosse stato un incontro tra Provenzano, Rina all'interno di un hotel e tu ti trovi lì fuori e trovi un cecchino sul tetto, capisci la reazione della polizia che dice scappa, poi interveniamo. Ma non se all'interno c'è il nostro futuro presidente del Consiglio, il nostro futuro presidente della TV di Stato. Questa è una risposta inaccettabile.